Concludiamo questo meeting presentando il libro di Don Giussani, Dall'Utopia alla Presenza. È una raccolta di dialoghi di Don Giussani con studenti universitari. Non è dunque un libro di teologia cattolica, ma appunto il racconto di un'esperienza, cioè di un pezzo di vita giudicato e guidato, cioè appunto, come Don Giussani ci ha sempre insegnato, questa è un'esperienza. È per questo che abbiamo invitato a parlarne, insieme a Cesana, che con Giussani in quegli anni è stato protagonista della vita delle nostre comunità universitarie, del Clou, abbiamo invitato a parlarne non dei teologi, ma due amici che hanno accettato da uomini di confrontarsi con un'esperienza. Due amici che da sempre hanno guardato con stima e con simpatia all'esperienza di Giussani e all'esperienza nostra, che dall'amicizia con lui è seguita. Persani è venuto al meeting in questi anni sempre da amico, in varie vesti, come Presidente della Regione Emilia-Romagna, come Ministro dell'Industria, come Economista, tanti incontri su tematiche economiche. Lo abbiamo invitato anche una volta, io penso che lo ricorderai, a una conferenza stampa a Roma come testimonial del meeting. Tante erano le volte in cui era venuto al meeting. E in quell'occasione Persani aveva a dire che viene volentieri al meeting, perché al meeting c'è sempre... Al meeting è l'occasione per tornare sempre a casa con qualcosa di nuovo su cui pensare. Ve l'ho voluto citare perché mi è parsa una bella definizione di dialogo, cioè avere l'apertura di pensare a qualcosa di nuovo e avere il gusto di approfondire questo nuovo e questo diverso che ci può essere nelle ragioni dell'altro. Torna oggi, oggi che è Ministro per lo Sviluppo Economico, torna per intervenire sul libro di Don Giussani. E lo ringraziamo di tutto questo. Il professor Weiler, anche egli, conoscenza non così antica ma altrettanto conoscenza per noi grata e amicale del meeting, il professor Weiler ha presentato il suo libro Un'Europa cristiana al meeting nel 2003 e è ritornato nel 2005. Il professor Weiler è ordinario di diritto internazionale alla New York University ed è uno dei massimi esperti di integrazione europea e di diritto costituzionale che noi abbiamo sentito fin dal momento in cui lo abbiamo incontrato come una amicizia grande e importante per noi proprio per capire e affondare sulla conoscenza di quell'Europa che ci è parso capire talora nelle sue radici e nelle sue origini molto più lui di noi. Lo ringraziamo in maniera particolare proprio perché oggi, sabato, lui, ebreo ortodosso, ha accettato di essere presente tra noi. E ha, nel rispetto della santità del sabato, non potendo fare uso del microfono, ha registrato ieri per noi il suo intervento in video ed è pertanto in questa forma che lo ascolteremo. Do pertanto subito la parola al cuore del professor Weiler e alla parola del suo video. Grazie. Buonasera. Sembra oramai stabilito il mio ruolo nei meeting di comunione e liberazione. L'anno scorso era nella sessione con i ministri Frattini e Pisano e il professor Vittadini. Questo anno sono accanto al ministro Bersani e al professor Cesano. O faccio l'apripista o, nel senso shakesperiano, sono un intervallo comico per fumare una sigaretta, uscire un attimo in mezzo alle vere stars. Accetto il mio destino. Sono particolarmente grato agli organizzatori del meeting quest'anno. Mi avevano invitato mesi fa e avevo dovuto rinunciare a causa di malattia di mia moglie. Tanti amici di tutto il mondo ci hanno offerto le loro simpatie, ma amici di qui hanno offerto anche le loro preghiere. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacove non discrimina fra le preghiere. Sono felice che mia moglie ha di 26 anni. No, intendevo dire mia moglie da 26 anni, ma guardatela, non sembra di 26 anni. Madre dei nostri cinque figli, mi accompagna qui oggi. Grazie a tutti voi. Leggere dall'utopia alla presenza è stata un'esperienza diversa da leggere gli altri libri di Giussani. Non ho avuto la fortuna di incontrarlo personalmente, ma in questo libro si sente Giussani dal vivo. A volte un po' acido, a volte esasperato, sempre entusiasto e pieno di vita. Molto essenziale, molto combattivo. Allo stesso tempo sereno nella sua fede profonda chi trasmette agli altri. Sono stato invitato a riflettere su temi centrali del libro dell'utopia alla presenza nell'ottica della mia esperienza di ebreo, peccatore, ma credente. Anche se si sono in certo modo messi insieme, vorrei individuare tre temi centrali nel libro di Giussani. Avvenimento, verifica e cambiamento. Tutti alla luce del suo concetto centrale della presenza. Giussani dà fastidio. Dà fastidio ai laici, ma come vedremo dà fastidio anche ai religiosi. Prima ai laici. Il laicismo europeo è del tutto particolare. Molto diverso, per esempio, da quello nordamericano. Il laico europeo non è qualcuno che non crede. Chi può darsi ha smesso credere. Ma la laicità è la sua fede. E a volte, come certi cristiani di un tempo, è molto militante e oppressivo verso quelli che non condividono questa sua fede. Vediamo un po'. Qual è il credente preferito dal laico di oggi? Primo, meglio che non sia cristiano. Ebreo è già meglio. E musulmano addirittura. Che è interessante. Dobbiamo capirli quei ebrei, quei musulmani, dialogare con loro. A volte penso, magari la volontà di dialogare con i cristiani fosse forte come quella con gli ebrei musulmani. Secondo, il credente preferito è uno pietistico, un po' new age, che disprezza la ragione, la razionalità e insiste sul spiritualismo. Uno così è facile accettarlo, con un senso di condiscendenza. Povero, dai, lasciamolo stare. Terzo, il credente preferito al laico è uno per il quale il credo o la pratica religiosa è una convinzione da nascondere bene bene a casa propria, o al massimo in chiesa la domenica, e per quale la piazza pubblica resta sterile da tutta questa scemenza, addirittura disinfestata di questa scemenza. La croce nella nostra società attuale è accettata a condizione che sia antica almeno di duecento anni, un'opera di arte, non un segno di fede viva. Infatti, il credente preferito è quello che non si sa sia un credente. Quarto, il credente preferito è quello che se insiste a scendere nella piazza pubblica, lo fa in termini definiti della premessa laica di questa piazza, cioè come avversario ideologico di normale amministrazione. C'è un comunista, c'è un socialista, c'è una femminista, allora che ci sia pure anche un cristiano, genere diversi dello stesso discorso. Leggendo dall'utopia alla presenza, si può capire perché Giussani, la sua persona, le sue convinzioni, il suo insegnamento, erano così provocatori ai laici, davano così fastidio. Perché la persona religiosa che lui esige è esattamente contrario al tipo di credente preferito. perché è uno che insiste sulla ragione come base essenziale alla sua fede. Perché è pio, ma rifiuta di ritirarsi in convento. Perché fa sentire la sua voce, mantiene la sua presenza nella piazza pubblica, ma in termini che definisce lui. E con una presenza che non soltanto esprime preferenze politiche, ma testimonia una verità trascendentale. Ma Giussani dà fastidio anche al religioso. Con Giussani non basta portare un crocifisso, andare alla messa e poi rientrare nella vita normale e quotidiana. Con i cristiani della domenica lui non ci sta. E non ci sta neanche con il cristiano che definisce un programma politica. Che miracolo! Un programma politica che è difficile distinguerlo dagli opinionisti del Corriere o della Repubblica. Cioè dei ben pensanti europei, uno che si basa semplicemente, invece, sul Vangelo di Marx o di Immanuel Kant, sul Vangelo di Giovanni, Luca o Matteo. No. Per Giussani l'uomo religioso e la vita religiosa si pongono in categoria diversa dell'esperienza umana. Giacobbe, dice Giussani, dopo la lotta con Dio in quella serata al tramonto, dopo quella lotta andò zoppicando tutta la vita. Vale a dire, mangiava e era zoppo. Andava con sua moglie ed era zoppo. Andava a mungere le vacche ed era zoppo. Discuteva con gli altri ed era zoppo. E' solo se il soggetto è ferito che allora la verifica diventa la verifica della vita. Non si può fare la verifica fuori senza che sia conseguenza del sanguinare dentro. Questo è il credente di Giussani. Una sfida non facile. Per primo illustro il tema della verifica e della presenza. La realtà che vorrei usare per illustrare i concetti della verifica e della presenza nel suo libro tocca quella che mi sembra la sfida più grave e importante alla nostra civiltà attuale in Europa. Qualcuno l'ha chiamato il suicidio dell'Occidente. Si tratta del calo della fertilità delle nostre società. Semplicemente perché la società si riproduca la grandezza media di una famiglia deve essere 2,3 bambini. Invece in Spagna per esempio la misura attuale è 1,1. In Italia, Germania, Austria poco di più. I nuovi paesi, tipo la Polonia o i paesi baltici, hanno una situazione persino più grave. Queste statistiche possono far sbaddigliare. Dai, Weiler, va avanti. Ma pensato. A livello utilitaristico, che è per tanti la sola prospettiva di cui valutare la realtà, in alcuni dei nostri paesi il numero di persone che hanno più di 60 anni è il doppio di quelle che hanno meno di 18 anni. Chi sosterà nel periodo assistenziale tutta questa generazione quando diventeranno veramente vecchi? E sto parlando della solidarietà, quel famoso concetto con cui noi in Europa amiamo definirci come singolare aspetto della nostra cultura, come valore che distingui dagli altri. Vorrei aggiungere una cosa personale. Io personalmente, con solidarietà, non intendo semplicemente lo Stato, anche rapporti personali fra le persone. Pensate ancora che, senza contare gli immigrati, la popolazione della Spagna può dimezzarsi in una generazione. Che entro una generazione ci saranno 100 milioni in meno di persone in Europa, 100 milioni di più negli Stati Uniti. Ma il dramma va oltre la considerazione materiale e utilitaristica. È la nostra civiltà che imballo. E per me non è un peccato, serenamente, essere un po' fiero della nostra civiltà. La dignità, la libertà e il patrimonio culturale senza paragone. La sorta di questa civiltà, un miscella dialettica fra i valori basilari della tradizione cristiana e dell'illuminismo, dipende nel modo più semplice e essenziale della vitalità della nostra società europea. Il calo demografico inevitabilmente influisce sulla capacità di sostenere la nostra civiltà. Non ci sarà un vacuum in Europa. Il calo demografico verrà riempito, come è sempre stato, dagli immigrati. In passato, questa dava forza all'Europa. L'immigrato voleva integrarsi nella cultura europea e gli europei coscientemente hanno assimilato i contributi culturali umani di nuovi arrivati. Come il grande storico francese Rémy Bragg ha spiegato nel suo libro molto importante tradotto in italiano Il futuro dell'Occidente, la originalità della civiltà europea sin dall'inizio era la capacità di appropriarsi e sintetizzare altre culture e così rinnovarsi in continuazione. La via romana, il nome del suo libro in francese, è basata sul Gerusalemme, sull'Atene e così via. Ma oggi, sapete, in una mentalità mondiale di tribalizzazione, di identity politics, questo processo dialettico di sviluppo della cultura europea non è affatto scontato. Non è soltanto il gioco di numeri meno e meno europea nella maniera più drammatica e immaginabile, ma anche fra quelli meno e meno europei sono meno e meno chi praticano i fondamenti indispensabili, cioè la cultura cristiana vivente, che è gravamente indebolita. Se pensiamo al di là del problema politico immediato tipo liberalizzazione dei servizi più o meno tassisti, eccetera, non c'è sfida più grave al futuro dell'Europa che questo calo. Nell'ottica di utopia o ideologia nel senso di Giussani, la risposta a questa sfida sembra evidente. Per esempio, in Germania, finalmente la Merkel ha capito la gravità della situazione e ha introdotto un pacchetto sociale che materialmente favorisce la famiglia più numerosa, che permette ai genitori, sia marito sia moglie, di stare in casa più senza compromettere la carriera, eccetera. L'utopista cristiano aggiungerebbe a questo pacchetto tutto il bouquet delle politiche pro vita, restrizione sull'aborto e sostegno della famiglia tradizionale, eccetera. Ci saranno pochi in questa aula a chi non condividano questi valori pro vita, anche se ci sono differenze nella modalità di applicazione. E così ci si può sentire nella parte dei buoni attenti alle esigenze, coinvolti nella realtà, non staccati nella pietà e in sostegno delle buone politiche cristiane. Questa, però, non è presenza nel senso di Giussani. Per spiegarmi, vorrei fare prima una piccola citazione dall'Utopia alla presenza. Giussani è in colloquio con un membro del responsabile del clou. Il solito problema, la debole struttura della comunità. La reazione del responsabile è del tutto nobile e ragionevole, la voglia di approfondire la struttura comunionale. Risponde Giussani, e sto citando. Dire, c'è questa carenza di comunione, allora la voglia è quella di approfondire la comunionalità fra di noi, porta di qualcosa di fitizio. Come tale potrebbe a qualcosa di fitizio. Invece, la voglia dovrebbe essere di approfondire la fede in me e l'approfondirsi della fede nella persona che come corollario, come conseguenza, matura la comunione. Perciò, la presenza sarà una conseguenza di questo. La presenza viene quando più è profonda la coscienza della fede che ho in me. La presenza riempi da gusto, da pace, perché sono tutti sintomi personali. Così, Giussani. cosa c'entra con tutto ciò la sfida demografica e di civiltà? Certo, nel definire le politiche societarie c'è una differenza notevole fra cristiani pro vita e i laici. Ma ora la verifica della presenza. esaminando le statistiche non ho notato invece una differenza notevole fra cristiani e laici nella nostra società per quanto riguarda la famiglia. E so che in questa aula la situazione può essere un po' diversa. Cristiani e laici un bambino, due. Tre, è considerato già una famiglia enorme. Come possiamo di più? Dopodichutto la nostra Alfa Romea non porta più di cinque persone. Così mi dicano. Essere pro vita nel senso di presenza invece che nel senso di utopia ideologica non vuol dire semplicemente e comodamente favorire una politica sociale o un'altra. Vuol dire fare vita. amare la vita creare vita. Intendiamoci non voglio dire che la nostra società ha un problema demografico allora con odore fascista bisognerebbe fare più bambini. Dico invece come dice Giussani che bisognerebbe vivere la fede non parlarne. La famiglia numerosa non è una risposta utilitaria ad un'esigenza sociale. è un'espressione di fede di lealtà al Dio che ci comanda di crearci e moltiplicarci di fiducia nella possibilità di avere felicità anche con il sacrificio materiale che una famiglia numerosa a volta esige. Nell'amore vero della realtà provita la cui manifestazione più gioiosa sono figlie e figlie soprattutto nella fede della fede che cosa può essere manifestazione più nitida del futuro della presenza del Dio nel nostro mondo se non la decisione di creare vita di portare i miei bambini in questo mondo. Questa affermazione ci permette di andare ancora più in profondità tornando alla premessa già lì c'era qualcosa distorto abbiamo definito il problema come crisi demografico con conseguenza per la nostra civiltà ma questa stessa affermazione che sembra banale incontestabile è un magnifico esempio della maniera in cui la ideologia distorce la stessa percezione della realtà come dice Giussani perché questa affermazione è basata su un Weltanschauung materialista in realtà la crisi è una crisi spirituale la mancanza di fede la slealtà verso Dio è un frutto di autocomprensione di noi tutti che confonde la dignità umana come valore basilare con l'egoismo una prospettiva questa che non mette al centro l'umanità ma mette al centro l'io il calo demografico non è la causa della crisi che minaccia la civiltà ma la conseguenza di una crisi spirituale che dimostra che la civiltà è oramai minacciata questa è la verifica di ogni famiglia di ogni coppa verso la loro fede verso la realtà di essere provita questa è presenza la famiglia perché impedisce di gettare la responsabilità sugli altri e impedisce di ridurre fede in politica amore di Dio in posizione ideologica ma in fondo c'è anche qualcosa di buffo in tutto ciò questo mio appello alla fede alla lealtà fa sembrare che si tratti di un sacrificio enorme di un peso che qualcuno ha chiesto di portare sulla spalla non vorrei fare del romanticismo hollywoodiano la famiglia a volte è difficile a volte fa paura a volte addirittura tragico perde un bambino e inconsolabile ma tutto sommato nella mia esperienza sia come bambino di una famiglia numerosa eravamo in sei sia come padre non c'è niente di più gioioso soddisfacente che fa sentire vivo e completo Giussani parlando sul matrimonio ha detto matrimonio senza Dio che razza di matrimonio è io dico la stessa cosa sulla famiglia una famiglia che non è numerosa robusta litigiosa rumorosa che razza di famiglia è che vita è che fede riflettete e invitatemi ai prossimi battesimi ora facciamo pausa per qualche foto sul tema di famiglia di famiglia che Grazie. Parlo ora dell'avvenimento, tanto centrale nel pensiero di Giussani in questo libro. Qui, senza complimenti, senza complessi, faccio l'ebreo. Per noi l'avvenimento è il Sinai. E qui, devo dire, può darsi che per l'ebreo praticante vivere sempre questo avvenimento, come esige Giussani, ricordate l'esempio di Giacobo, il dolore permanente di far ricordare l'avvenimento dell'incontro con Dio, sia più facile. Perché dico che per noi può darsi più facile vivere l'ideale giusiano in questo senso? E proprio perciò chi vuoi, in segreto e naturalmente, disprezzate più di tutti i nostri legalismi. Quando si mangia con voi tutti i problemi, questo non posso, quest'altro non posso, il maiale non posso, questo tipo di pesce no, questo tipo di pesce sì, questo altro no, ho mangiato la carne, perciò non posso mangiare il formaggio noioso, arido. No, no amici, no fratelli. In ogni pasto c'è il Sinai. Sinai è presente. Se non fosse Sinai nell'ogni pasto, questo prosciutto di Parma mi sembra abbastanza appetitoso, ma c'è Sinai, si rifiuta. Mi invitano al meeting per parlarvi di sabato, migliaia di mail, di microfono, eccetera, e finalmente, vedete, invece di parlarvi, faccio playback. Perché? Perché c'è avvenimento presente, c'è Sinai. Tutta la settimana è condizionato di questo avvenimento. L'avvenimento non è sabato, l'avvenimento è l'avvenimento giusianiano nel senso reale della parola, il ricordo del Sinai ogni giorno, ogni pasto, ogni settimana. Basta, non vorrei annoiarvi tutto, soprattutto che l'anno scorso era il tema del mio intervento qui al meeting e poi era una piccola pubblicazione, intervista con mio grande amico Albacete, nelle tracce. Però, questo anno, aver letto giusani, mi ha fatto capire il significato di una prassi con un vocabolario e in una maniera nuova e profonda. Tutta la mia vita c'è sabato, tutta la mia vita si mangia kasher. Ma con giusani ho capito il significato avvenimento che lui spiega in maniera così chiaro. Perché giusani, in questo libro, proprio parla su questo prassi nostro. Sono sicuro che giusani non avrebbe mai disprezzato le nostre osservanze, anche quelle che a tanti sembrano arcani. Perché giusani, in suo libro, parla sul core, expressis verbis, fa riferimento nel significato alla versione autentica ebrea della parola core. E in una delle espressioni più forti nella Bibbia, si spiega che questa alleanza dei comandamenti, queste usanze, queste pratiche, è un modo di circoncidere il proprio cuore. Giusani, campione dell'avvenimento e della presenza, avrebbe capito benissimo la logica delle nostre osservanze. Sinai, dalla mattina alla sera. Finalmente, il desiderio di cambiamento. Giussani, nel libro, nella sua vita, nell'attenzione quasi ossessiva al liceo e all'università, dava posto centrale, anzi cruciale, all'educazione nella vita dell'uomo di fede. Infatti, uno dei piaceri costanti del meeting, di parlare al pubblico del meeting, è di essere davanti gente come voi, che ancora legge libri, e che le iPod e il lettore MP non hanno ancora del tutto conquistato, e che possano seguire un discorso, che usa un vocabolario di più di 3.000 parola. E' un avvenimento dove la libreria è affollato quanto il concerto della sera. Bravi! Anche rispetto a questa dimensione, educazione, c'è una lezione interessante per quando riguarda la tematica utopia-presenza. Una lezione che voglio mostrare facendo omaggio alla persona più importante nella mia vita, cioè mio padre, che è mancato sei anni fa. L'educazione sì che è importante, e gli studi bisognerebbe farli in maniera seria. L'università non è preparazione per la vita, è già la vita. Non si può posticipare la vita finché finiscono i miei studi. Quindi, se sei superficiale in un'università, sarai superficiale nella vita, in tutta la tua vita. Se sei fesso, se sei disumano, se sei 100% egoista nell'università, così sarai anche per il resto della tua vita. La prima politica è vivere, e la vita è ovunque si trova, non comincia dopo. Però, per quanto riguarda lo studio, facilmente si può capirlo utopisticamente. Cioè, si studia in maniera strumentale per diventare un buon avvocato, un buon ingegnere, un buon medico, un buon professore universitario. Si può anche idealizzare un certo modello di studio. Che bravo questo professore! Che bravo questo medico! Vorrei essere anche io, come loro, pieno di sapere, saggio e perciò famoso e di successo. Questa non è la vita contemplativa alla Giussani. Questo non è l'ideale dell'educazione. Questa non è presenza. Nella nostra preghiera mattutina, presa dal Talmud, si recita. Queste sono le cose con cui la persona gode il frutto di questo mondo. Il patrimonio rimane per l'altro mondo. Sono rispetto per i genitori, per primo. Aiutare il prossimo, visitare gli ammalati, portare la pace, riconciliare i nemici, eccetera. Però, dice la preghiera mattutina, lo studio della Torah conta come tutto ciò. Per tutta la mia vita, ho un ricordo e costanze di mio padre, che si alzava ogni giorno alle quattro e si metteva a studiare. Non per il suo lavoro, non per preparare una conferenza, non per diventare più professionale, per l'attività di studio in sé. Studiava il Talmud, un'opera che, leggendone una pagina al giorno, passerebbe sette anni per completarlo. E di solito ci vuole una settimana per impadronirsi da una pagina di Talmud. Mio padre era un esempio vivente della passione e dell'amore per lo studio, per una vita che non separava razio e fede, sentimento e ragione. Ora arrivo il dunque. Non vi propongo di cominciare a studiare il Talmud, ma ci sono due punti che vorrei sottolineare. Studiare, nell'ottica del concetto della presenza, significa un modo di vita. Non si finisce mai, non ha scopi strumentali, è quasi come risperare, ma c'è di più. Per la persona di fede, avere un impegno di studiare regolarmente, quotidianamente, i testi sacri della propria fede, fa parte della vita di fede. Richiede sacrificio, sposta a volte anche lo studio universitario, la preparazione di un esame. Richieda forze di volontà. Ma soprattutto è un modo, molto alla Giussani, di vivere e respirare la fede come la stessa preghiera. Di vivere e respirare la fede, però non soltanto a livello affettivo e emozionale, ma anche a livello intellettuale. Vivere, non soltanto parlare su Fides et Ratio. È molto facile e anche fa comodo citare Giussani sull'importanza dello studio. E di ripetere anche in polemica con gli altri il suo grande credo, che la scelta di fede, la scelta per Dio, non è una rinuncia alla razionalità e alla ragionavalezza, ma è riconoscere che il mistero ineffabile fa parte della realtà. E' facile spapagallare queste frasi, ma presenza vuol dire vivere queste affermazioni, farle integrare all'esperienza quotidiana. Ecco una sfida a tutti i miei colleghi universitari, che fanno sacrifici enormi di famiglia, vacanza, eccetera, per pubblicare un articolo, un altro articolo, il primo libro, il secondo libro. In questa bibliografia, chi si allunga, c'è un studio su temi di vita, di fede, che non serve alla vostra carriera universitaria. Perché non vi impegnate di dare la decima nelle vostre pubblicazioni? E per i più fortunati, quelli che non hanno nulla a che fare con l'università, la sfida è ancora più semplice. Un impegno quotidiano di studiare. Provatelo e vi darò anche il mio piccolo consiglio personale. Io ho anche deciso di fare ginnastica ogni giorno. Guardatemi sul palcoscenico, non sul video registrato. E vedete il risultato meschino di questa decisione. Troppo facile rimandare, a volte anche per settimane. Per mantenere il mio impegno di studio quotidiano, ho trovato un metodo infallibile. Do una lezione agli amici e conoscenti ogni settimana. Per forza devo prepararmi, per forza devo studiare. Provate. Anzi, ho una proposta ancora più bella. Impegnatevi a dare una lezione a questi numerosi bambini che avete ora deciso di avere. In conclusione, qual è il messaggio trascendente dall'utopia alla presenza? La risposta si manifesta soprattutto nell'ultima parte del libro, in cui Giussani ritorna parlando sulla cristianità ai suoi temi più costanti e essenziali. La categoria che ci distingue, chi distingue un uomo di fede, la comunità di fidele, è la santità. Non siamo gollosi. La giustizia, la moralità, il senso di dignità umana e il patrimonio che il religioso condivide con il laico. Non abbiamo il monopolio su questi concetti, ma la santità è un concetto che semplicemente non ha senso nel Weltanschauung laico, che non è traducibile in vocabolario non religioso. Dall'utopia alla presenza, il programma profondo di Giussani di seguire l'imperativo della tradizione giudea-cristiana, che si trova originariamente nel libro del Levitico. Siate, plurale, comunità, siate santi, perché santo sono io, il Signore vostro Dio. Grazie. 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 Ha proprio ragione Don Giussani quando dice che dai nostri fratelli ebrei dobbiamo imparare e noi, io credo che l'intervento di oggi ce lo abbia ancora una volta documentato, nel Professor Weiler possiamo avere veramente un maestro. Grazie. La parola ora al Ministro Bersani. Grazie. Grazie. Grazie innanzitutto per l'invito a questa iniziativa. Io vengo qui da voi così come sono, come uno che non aveva scritto sulla culla Ministro, come uno che purtroppo non ha avuto la fortuna di conoscere personalmente Don Giussani, anche se ho cercato sempre di capirlo, come uno che non ha neanche i cappelli. Adesso questo andrà a sottolineare. Quindi vengo così, vengo così molto semplicemente e so che alcuni si sono stupiti di questo invito. Credo ecco con parecchi di voi ci conosciamo, ci conosciamo da parecchi anni, ci siamo visti reciprocamente all'opera e penso che questi amici sappiano che anche per me la politica non è tutto e che penso anch'io che una persona sia sempre più di quello che fa e quindi credo che loro non si stupiscano di questo invito. Per quel che mi riguarda la grande soddisfazione di essere qui, il motivo di questa grande soddisfazione lo dirò alla fine, spero che emerga dal ragionamento che cercherò di fare, il breve ragionamento che cercherò di fare. Dicevo la politica non è tutto e credo, io ragionerò attorno a questo punto, perché questo punto è già molto prossimo a una delle premesse del percorso che viene descritto in questo libro. Come leggo questo libro? Io lo leggo come sostanzialmente un viaggio verso il cristianesimo, un viaggio condotto con un metodo educativo, un viaggio condotto con una mano molto salda, con una mano da grande riformatore, con la mano di un uomo che ritorna e che riforma. E delle tante sollecitazioni che vengono da questa lettura, io ne sceglierò due, una che riguarda il piano storico, se si vuole cronachistico, se la parola storica nella mia bocca può risultare eccessiva e l'altro più di contenuto. Ecco, mi sono trovato, leggendo la prima parte in particolare del libro, a pensare alla luce della mia esperienza, che certo avevamo percorsi diversi in quegli anni, ma si respirava alla fine la stessa aria. Io sono costretto qui a schematizzare brutalmente, ma io ricordo quegli anni 60, quella generazione fuori dai vincoli, dagli obiettivi materiali, delle condizioni di base materiali che avevano investito la generazione della guerra. Una generazione che respirava un'aria che arrivava al cuore e alla testa, che era un'esigenza di libertà fondamentalmente, di autonomia, di responsabilità, uno spirito anticonformista, antiborghese, si diceva allora, fino a toccare in molti casi nel fondo, nel profondo, l'ecoscienza e il senso stesso della vita. Ecco, io credo, e lo si vedeva alla fine già allora, anche se non con questa consapevolezza, che G.S. nella sfera religiosa e di fede anticipò questo processo e poi si misurò duramente con un passaggio che secondo me tutto quel processo visse. Cioè il passaggio tumultuoso e confuso da un bisogno di cambiamento a un progetto di cambiamento. Un passaggio che portò allora a scaricare il presente sul futuro e a immaginare soluzioni, soluzioni per una vita nuova, per un mondo nuovo, ricerca di soluzioni che prese largamente la via politica e poi spesso il sentiero più stretto dell'ideologia e dell'utopia. Ecco, e anche qui, nella sfera religiosa e di fede, ancora una volta in anticipo, la prima svolta attorno al 69, il ritorno alle origini, la scelta di comunione e liberazione, quel ritorno all'origine, quella scelta che io ritengo sia la ragione profonda del fatto che tutti devono riconoscere che di tutti i movimenti, le associazioni e le organizzazioni nati in quel contesto, comunione liberazione e liberazione, è l'unica che ha mantenuto il suo nome. E credo che la ragione sia in quel fondamentale passaggio ritorno alle origini. E poi, di nuovo, il rischio che questo punto di fondo fosse disperso, che quest'idea di presenza fosse rinsecchita nell'idea di un progetto alternativo, di un progetto, diciamolo pure, se pur in senso lato, in un progetto politico, e qui il decisivo colpo di reni, colpo di barra, che leggiamo in questo libro. Che, ripeto, a me sembra un viaggio verso il cristianesimo che Giussani conduce con mano molto ferma. Ora non tocca a me andare oltre su questo punto, qui c'è un protagonista di quella vicenda e dirà Cesani. Io credo di poter dire, però, rivolgendomi a quelli che non hanno vissuto il percorso di CL, credo di poter sottolineare qualche nota bene, diciamo così, qualche piccola istruzione per l'uso da parte di uno che ha cercato di leggerlo sempre, Giussani. Che cos'è che può più impressionare un lettore anche minimamente consapevole, insomma, del contesto in cui si è svolta questa vicenda? Beh, intanto impressiona, francamente, la volontà, la determinazione Giussani di andare a fondo, superando difficoltà e anche resistenze che si intravedono, perché quella è una cronaca reale di un dibattito, di una discussione, superando difficoltà di comprensione che ci sono dentro il movimento. Poi l'incredibile determinazione a tenersi fuori dal clima. Quegli erano anni, stiamo parlando di anni tumultuosissimi, per tutti e per CL in particolare. Anni in cui è in discussione l'agibilità politica di CL, anni di tensione, anni di violenza, anni di fatti tragici, lo russo, il rapimento moro. Non si troverà una parola, tanta è la concentrazione sul fatto. Forse ecco, forse un cenno può esserci laddove, non so se Cesano può confermare, ma laddove c'è questa sottolineatura un po' drammatica, chissà se forse anche un po' amara, dei primi 300 anni del cristianesimo, nei quali la Chiesa sopravvisse alla persecuzione o comunque all'isolamento, all'oscuramento, 300 anni. E questa forse è l'unica notazione che può essere colta e può avere un qualche senso di rapporto con quell'attualità. E poi la forza con cui si riconduce alla essenzialità di questo tema della presenza. C'è un tema che viene prima, ecco io vorrei che fosse sottolineato questo per chi appunto non è, non ha vissuto, insomma, che viene prima dell'iniziativa, ma la produce. C'è una presenza che non è un isolamento, è una presenza espressiva, che però viene prima. E qui c'è addirittura la forza, il sarcasmo, quando vi dice ma volete far subito l'iniziativa, volete fare, volete il giocattolo. E quindi un tono anche aggressivo, anche molto sferzante, che sta dentro, ecco l'altro punto, a un processo educativo, processo formativo, educativo. E che, come dire, sottolinea, introduce un tema di autorevolezza e di unità del movimento, noi diremmo laicamente di leadership e di meccanismi della leadership, che meriterebbero di essere veramente indagati nella loro straordinaria originalità. Ecco, queste sono alcune, diciamo, avvertenze per chi si accostasse una lettura dal punto di vista di un percorso, diciamo, non interno a queste vicende. Ecco, e poi questa presenza che portava degli effetti pratici, dicevo, a cominciare dalla vita nelle università. ecco un altro punto di differenza tra i percorsi. Io ricordo nel mio mondo, insomma, l'università era alla fine per l'iniziativa politico-culturale, era un trampolino di lancio, era un posto provvisorio, era un pretesto concettualmente. Le forze motrici erano sempre da un'altra parte. E qui invece c'è una visione molto forte dell'università, che è un incrocio di una dimensione verticale e di una dimensione orizzontale, cioè verticale nel fatto che l'università è il punto di passaggio, l'ultima possibilità di Gesù Sani per la formazione dell'adulto cristiano. E dall'altro, orizzontalmente, la possibilità di avere attraverso quel luogo una serie di relazioni umane, territoriali, eccetera. E quindi un'idea molto forte. Insomma, mi fermo qui, ma al di là di questo, naturalmente nel libro si è sollecitati anche da tesi, argomenti che toccano la profondità della vita cristiana, i temi sui quali non è certo il caso che io mi avventuri, perché questo è certamente un libro vivente. Mi pare che l'introduzione anche di Caron alla fine sottolinei questo punto. Questo è veramente un libro vivente al quale accostarsi naturalmente in punta di piedi. E quindi io nel merito, per avviarmi a concludere, tocco un punto che è più confacente ai miei abiti, diciamo così, una riflessione che mi viene da un punto di svolta nel ragionamento di Giussani. E cioè questa critica dell'utopia, questa critica dell'ideologia, questa critica del progetto, che è un po' una critica di un'idea di futuro come soluzione all'esigenza di una vita nuova e di un mondo nuovo. Diciamo incidentalmente che anche in questo caso, da percorsi diversi però, attenzione, si risperava anche in questo la stessa area, perché in quegli anni fuori da questo percorso di cui stiamo discutendo, c'era sì una radicalizzazione di posizioni ideologiche utopistiche, che portarono anche esiti distruttivi. Ma c'era anche la profonda crisi di queste posizioni e un larghissimo abbandono di queste posizioni, anni 72, 73, 71, proprio in nome di una critica a un'ideologia, una politica che sostanzialmente sacrificava l'uomo di oggi in nome dell'uomo di domani. E questa fu una, io posso testimoniarla adesso anche per esperienza diretta e personale, ma non è solo, certamente la sola, è una diaspora via da posizioni ideologiche utopistiche che prese poi delle vie carsiche, che non razionalizzò un tema di cui discuterò fra un attimo, ma che comunque avvenne. Allora, e per questo anche delle frasi molto dure di Don Giussani sui temi ideologici, sui temi del contesto di ideologia, l'utopia, li sento profondamente veri. Perché pur da un altro lato ne abbiamo discusso, ne abbiamo vissuti. Ecco, ma allora, ecco questa è la domanda su cui voglio andare a chiudere, ma davanti all'evidenza di una politica che può infettarsi di ideologia, di borgia, di utopia. Come dobbiamo regolarci oggi? Quale statuto dobbiamo e possiamo dare alla politica oggi? Dovrebbe la politica allora per non essere ideologia, utopia, eccetera, essere una tecnica senza obiettivi, senza una qualche promessa di futuro. Una tecnica che non ha bisogno di una visione del mondo, che non ha bisogno anche di un'urgenza morale. Una sfera in cui si può essere minimalisti, si può essere scettici, magari anche spregiudicati, senza colpa, perché il problema è un altro, da un'altra parte. Oppure la politica che non può darti un mondo perfetto è comunque chiamata a dartene uno migliore. Un mondo nel quale sia più visibile l'uguale dignità e libertà di tutti gli uomini, di tutte le donne. E quindi la politica che abbia una sua autonomia, dei suoi pensieri forti e radicati, e anche delle sue coerenze, anche minime. Abbiate pazienza, io accetto dal professore una lezione sulla famiglia, l'accetto, l'ho visto, ma io non riesco a accettare a me una lezione sulla famiglia da chi ne ha due o tre. C'è un limite. Allora, tornando quindi al punto, al tramonto del pensiero e della pratica, dell'utopia, dell'ideologia, dove si può nascondere oggi la boria della politica, ancora nell'utopia, ancora nell'ideologia, io credo che invece questa boria possa annidarsi a un'altra parte, che a furia di ridurre il ruolo, l'idea della politica, questa boria possa annidarsi in una politica percepita come puro esercizio di potere, come puro galleggiamento, come pura tecnica. Io credo, io mi sento molto coinvolto in una frase torevolissima che è stata detta, cioè che la politica è la più alta forma di carità e anche se uno legge l'ultima enciclica di Benedetto XVI, c'è un passaggio per me formidabile, dove dice ma non tocca alla Chiesa realizzare una società giusta, tocca alla politica realizzare una società giusta, ma anche in una società giusta ci sarà sempre bisogno del caritas, dell'amore. E io credo quindi che avere una visione alta della politica aiuti anche a vederne i limiti della politica. E lo stesso vale, badate, è lo stesso discorso che si può fare per la ragione. E Giussani quante volte ci dice questo, cioè la ragione non è illimitata, ma questo non significa dimenticare che il sonno della ragione può produrre mostri. La fede fiorisce al culmine della ragione. Carone, il funerale di Giussani, ha voluto riprendere questa cifra fondamentale. E quindi ha la ragione stessa, se praticata veramente e non negata, a descrivere i limiti, i suoi limiti. E quindi la politica stessa può descrivere i suoi limiti. Questo ci è mancato in quell'altro percorso. Quelli che hanno criticato l'utopia nel versante dell'altro percorso, che hanno negato a un certo punto la condivisione di una piega utopica, ideologica, non hanno razionalizzato, non hanno discusso il limite della politica. La nobiltà è il limite della politica. Per questo la cosa di là è andata per via Carsica. E dov'è questo limite? Ma insomma il limite è alla soglie del problema antropologico, cioè di cui tutti dobbiamo riconosci il fondamento. L'uomo, si fa presto a capirlo, così come è possibile che l'uomo in una società giusta esprime un'eccedenza, un di più di carità, così è anche possibile che in una società giusta si apra l'abisso che c'è nel cuore umano e che ci coinvolge, perché niente di quel che è umano ci è estraneo. Non c'è bisogno di scomodare la Shoah, basta pensare ai bambini buttati ai pesci da chi dovrebbe custodirli. C'è un qualcosa al quale non arrivi né con la politica, né col diritto naturale, né con la ragione e che mette a dura prova anche la teodicea, cioè la possibilità di dimostrare la giustizia divina. Questa è la frontiera sulla quale dobbiamo riflettere tutti assieme per vedere se ci sono delle strade, se ci sono, che ci consentano di sapere che ok, quell'abisso c'è, ma senza rassegnarsi al fatto che debba aprirsi e inghiottire l'umanità e che quindi sia fondata la speranza di rendere migliore quel che non può essere perfetto. E qui mi riferisco a quella polemicuccia estiva che mi ha coinvolto. In questa ricerca francamente io non vedo cosa avrei da imparare, cosa avrei da guadagnare da una religione che si riducesse a una morale, a un naturalismo etico, a una logica sapienziale. Mi viene da dire perché fin lì ci arrivo anch'io. Capisco, lo diceva il professore, capisco che certo il modo di accettare più facilmente la fede e la religione da parte di chi non è coinvolto è questo, no? Vederla diciamo a misura di bocca, cioè a misura a portato diciamo di un'etica. Ma che valore aggiunto mi porterebbe? Io con questo quindi non mi sento pelagiano perché coltiva queste cose, assolutamente. Anche se non accetto che si disprezzi l'ideale pelagiano di un'austerità morale, di un'etica forte. E se potessi dire un'eresia filosofica, anzi posso dire, che sono incoraggiato da Giussani che ha una battuta splendida, a un certo punto dice uno di questi ragazzi, di questi interlocutori, dice non so se adesso dico un'eresia filosofica e lui gli risponde d'amblè, dice non ci sono eresie, più ne dice più è filosofia. È una frase stupenda. Allora, incoraggiato da questa cosa qua, io dico il mio desiderio sarebbe che Agostino fiorisse al culmine di Pelagio. Capisco che è concettualmente impossibile, ma che non fosse disperso un'esigenza di forze, come dirò, di forte tensione morale. Quindi io vedo in sostanza una ricerca comune sull'uomo fra una fede non naturalistica e un umanesimo forte nel riconoscimento comune che l'uomo è più della natura. È più della natura. Se è un'eccedenza che la si prenda da un lato o la si prenda dall'altro, c'è un di più. Quindi, se è così, l'uomo è di più di un animale e quindi la politica è più della tecnica che serve per tenere da domatore, che serve per tenere a bada una fiera, è più di un fiume e quindi la politica è più di una tecnica che serve ad arginare un fiume che è sempre uguale a se stesso e quindi c'è in questo più un dovere di immaginare il futuro anche per la politica. E io penso che questa, diciamo, speranza nella possibilità di un progresso non utopico, che possa venire anche dalla politica come grande capacità di regolazione della convivenza degli uomini, e io credo che venga proprio, fatemi fare questo cenno, poi mi metteranno ancora che voglio fare il teologo, ma io l'ho sempre trovata questa cosa proprio in Agostino che per uno che non vive il percorso di fede è la teologia quella che urta di più perché alla fine può, se malintesa, può portare della passività, della subordinazione, perfino del pessimismo. Invece io credo che nella teoria, nell'immagine della teoria del tempo di Agostino ci sia il punto. E cioè questo lui rifiuta, rifiuta la visione circolare del tempo degli antichi, un tempo senza freccia, senza direzione di marcia, quindi senza senso. E dice che nella, che il tempo è immerso nella coscienza dell'uomo in tre presenti, presente del passato, il presente del presente e il presente del futuro. Questo è il di più che credo abbia l'uomo e non c'è il resto della natura. Allora, l'idea, certo non c'è solo il presente del futuro, non c'è solo l'utopia, ma per Baco c'è. Nella nostra testa, nel nostro cuore una tensione, una direzione di marcia, una freccia, un'idea di futuro. Io credo che dobbiamo essere leali verso questa idea. E cioè che sia possibile, ripeto, avere non la società perfetta, ma una società migliore e che quindi ci sia una giusta pretesa della politica. che riconosca, e chiudo, il riconoscimento della giusta pretesa della fede, di cui Ratzinger, teologo, ha scritto così spesso. E qui c'è un punto, mi rendo conto, che è spesso molto difficile per, diciamo, la comprensione reciproca nei diversi percorsi. Ma io voglio dire che una fede non può che testimoniare un incontro con la verità. E che questa cosa di per sé non vuol dire integralismo. E questo forse un tema sul quale nel mio mondo bisogna continuare. Non vuol dire integralismo. Questo non ostacola il dialogo. E qui torniamo appunto a Giussani a questo libro. L'importante è che chi ha vissuto, diciamo, questo incontro accetti di pensare che questa verità si muove in modo carsico, può risbucarti da diverse parti e che quindi l'identità continui a camminare con la curiosità, si dice con lo stupore, con la ricerca d'amicizia, che in sostanza anche chi ha trovato continui a cercare. Questa è la condizione. Perché se è così, è così. Qui c'è un terreno forte di discussione dove nessuno deve portare il suo vino annacquato. Perché se ognuno porta il suo vino annacquato, alla fine viene fuori dell'acqua. Ciascuno deve portare il suo vino, schietto questa discussione, e andarci a fondo. Ecco perché io vorrei chiudere con l'idea di un dialogo che non sia solo politicista. figuriamoci, io credo che sono per il bipolarismo mite, sono per il dialogo, sono per tutte queste cose. Ma penso che dovremmo andare un po' più a fondo, capirsi un po' di più. Perché questo Paese non ha solo il problema del bipolarismo aggressivo, c'è qualcosa di più profondo. Bisogna andare più a fondo, bisogna, fatemelo dire così, farsi popolo un po' di più, volersi bene un po' di più, cercare di capirsi nei punti di vista un po' di più. Perché se no non andiamo da nessuna parte, non c'è nessuna tecnica elettorale istituzionale, bisogna che nessuno stia nel suo recinto. Bisogna capirsi, parlarsi. E badate che questo tipo di esigenza, che sentiamo così vera, via, guardate che è un tema di fondo non solo dell'Italia, delle grandi società, delle grandi democrazie. Io ricordavo stamattina, ma se noi ascoltassimo un po' quelli che si stanno occupando di crisi delle democrazie, si può citare a Martia Sen, ma quanti ce ne sono, che ci dicono, attenzione, la democrazia non è più solo il principio di maggioranza. attenzione che la democrazia non è più solo l'affermazione di istituzioni liberali, cose entrambe necessarie. Ma la democrazia oggi deve essere organizzazione del dibattito pubblico, del capirsi, del comprendersi, perché noi siamo molto prossimi a temi molto complicati, molto complicati. Temi eticamente sensibili, temi di mutamento di fase nelle nostre civiltà e non ce la caviamo né a colpi di maggioranza né chiamando l'antitrust, adesso per dirla chiara. Dobbiamo andare più a fondo, discutere di più e non può essere che ciascuno discuta a casa sua, se vogliamo in qualche misura farci popolo. E quindi dobbiamo in questo trovare anche la chiave formativa ed educativa della politica. Secondo me è il nuovo scenario. Oggi la linea non te la può più dare né un partito, oggi la linea viene fuori dalla formazione, dalla discussione, dall'educazione reciproca, in campo aperto. Da qui viene fuori la linea. E ci vuole una politica che abbia la consapevolezza di questo e che attrezzi i propri luoghi formativi, aperti, che ribadiscono sia la nobiltà della politica e sia il suo limite. Grazie. 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 Ringrazio Bersani per il suo intervento, soprattutto perché ci ha parlato dal di dentro di un'esperienza, cioè dal di dentro della sua esperienza di uomo nell'incontro con l'esperienza che Don Giussani racconta nel libro. E non è così frequente incontrare persone che guardino a quello che noi siamo così dal di dentro in questo modo e non soltanto aspettando quali sono le conseguenze. E quindi lo ringrazio veramente e sinceramente di questo. Giancarlo Cesana Trent'anni fa eravamo, non ricordo più se a Rimini o a Riccione, eravamo in un cinema e mi pare fosse inverno. Essendo in un cinema l'ambiente era piuttosto sul buio, sul palco stavano parlando tre persone che mi ricordo ma non ve lo dico e c'era anche Don Giussani. Il tono dell'incontro non era molto mosso, Don Giussani mi pare che sonnecchiasse o qualcosa di questo genere. Finisce l'incontro, io che mi sentivo un po' a ribollire per la morta Gora che caratterizzava quel nostro raduno intervenne dicendo qualcosa del tipo che bisognava intervenire, bisognava agire in università, bisognava cambiare l'unità, qualcosa di questo genere. E mi ricordo che Don Giussani sobalzò e disse no. Io tra me e me, come no? E cinque anni che stiamo facendo questo. Comunione e liberazione, come spiegavo stamattina ai giornalisti, è un nome che è nello stesso tempo una risposta. Tutti gli altri, Bersani prima ha descritto il clima, dicevano che la liberazione veniva dalla rivoluzione, dall'analisi politica e noi dicevamo che invece veniva dalla comunione. Poi si trattava di dimostrarlo, di dimostrare che la comunione era veramente capace di fare la liberazione come gli altri. E noi eravamo totalmente ingaggiati in questa continua iniziativa, in un clima molto duro, come ha detto sempre Bersani, dove c'è la problematica dell'agibilità politica. Stato a Milano i nostri manifesti stavano fuori dieci secondi se li curavi. C'è gente che ha fatto a pedate nel sedere tutto il cortile del filarete. Era una vita piuttosto movimentata. Allora, scusate, io intervenno e Giussani sobalzò e disse no. Questo episodio lo cito perché per me è l'inizio della vicenda descritta in questo libro. E le cose cominciano sempre quando ci colpiscono. Quando colpiscono solo gli altri non è detto che comincino. Allora, Don Giussani disse no e disse perché prima di tutto, prima di qualsiasi azione, l'ha citato anche Bersani, prima di qualsiasi azione, prima di qualsiasi iniziativa, c'è un'opzione di fondo, che è l'opzione che riguarda tu chi sei, chi ti fa, con chi stai, dato la prima cosa da decidere, non è cosa fare, è questa. Diceva proprio un attimo prima, un attimo prima di tutto, disse c'è Cristo, ma a voi non ve ne frega niente. Io rimasi molto colpito perché questo contraddiceva tutta la nostra mossa. Non è che rimasi convinto subito, mi ricordo che discutei tutta la sera e anche un po' più della sera con Onorato Grassi e poi con Giussani medesimo i giorni dopo, però è un ragazzo sveglio, non ci ho messo tanto a capirla. Perché da lì Don Giussani ha cominciato quanto è descritto in questo libro, quell'azione di riforma di cui parlava Bersani, perché è stata veramente un'azione di riforma su quello che era il movimento, su quello che era il movimento fino lì. Una grande fedeltà, perché sapete che il movimento nel 64 ha cominciato a spaccarsi, che la leadership è passata quasi tutta nella sinistra extraparlamentare, sono rimasti pochi dispersi, un gruppetto fedele nel 69, proprio un gruppetto. rimise su comunione e liberazione. Quindi questa fedeltà alla tradizione, questa fedeltà all'origine esausta, perché non ce la si faceva più, cioè si faceva fatica. Quando andai a parlare con Giussani gli disse appunto questo, facciamo fatica, siamo pochi e facciamo fatica. e questa riforma Don Giussani la fece su tre punti. Il primo, tre parole, la presenza. Tutta la prima parte, che è anche l'equip fondamentale, che è quella di Riccione del 76, è sulla presenza. Don Giussani fondamentalmente disse questo. Una presenza, la vita, quello che noi siamo, non può essere reattiva, non può giustificarsi perché è la risposta a qualcun'altro. deve essere originale, cioè deve valere in sé. Noi non ci siamo per rispondere agli altri, ci siamo perché ci siamo noi. Noi eravamo totalmente presi dalla necessità di dimostrare agli altri che eravamo anche noi capaci di fare la liberazione. Questo ci uccideva. e disse, cos'è la fede? La fede è riconoscere la presenza della liberazione della vita, della salvezza di tutto. Il Cristo prima di tutto. Questa presenza, duemila anni fa, aveva il volto di quel uomo, Gesù Cristo. Oggi è al volto della nostra unità, che è il nostro Sinai, la sorpresa della rivelazione di Dio. Perché l'unità è la cosa più impossibile per l'uomo. E poi diceva, noi non abbiamo bisogno di qualcosa che cambi le nostre azioni. Abbiamo bisogno di qualcosa che cambi la mia persona. Cito rapidamente, così facciamo anche più in fretta. Tutta la forza della proposta del nostro movimento è l'affermazione della propria felicità, cioè la realizzazione di sé. E questo è il motivo per cui siamo cristiani, che ci rende felici. Prima, perché io posso non essere capace di rispondere agli altri, posso essere limitato, posso non avere i mezzi, posso non avere i soldi, posso non avere studiato, posso essere un poveretto. Ma quello che io sono vale per ciò che mi costituisce. altrimenti il mondo sarebbe dei potenti, dei potenti e degli intellettuali. Diceva quindi, l'affermazione della propria felicità, cioè la realizzazione di sé. Questo è il motivo per cui vivo la fede, per cui riconosco Cristo. Ma io mi realizzo, dove mi realizzo? Perché questa è poi la la questione, perché le sottolineature di Giussani sono, è la sottolineatura di tre esigenze. Allora, amico mio, tu se ci sei nel mondo non è perché devi rispondere agli altri, ma perché vali tu. Primo punto. Ma io dove mi realizzo? Mi realizzo nel rapporto con la donna, nel rapporto col libro, nel rapporto col mangiare, nel rapporto con la montagna, nel rapporto con la gitta. Per cui, il rapporto con Cristo, la fede, è la verità, è vivere veramente queste cose. Questa è la sfida portata dalla vita. Cristo, la verità di Cristo, è la verità con cui si vive, è nella verità, lo si coglie, la presenza di Cristo la coglie nella verità con cui vive, nella verità delle cose che vive. questa è la prima parola che sbaraccò progressivamente tutto, tutte le preoccupazioni, cambiò letteralmente il volto del nostro movimento. Perché, come diceva Bersani giustamente, respiravamo tutti la stessa area, eravamo tutti un po' degli intellettuali. Da movimento anche noi occupati, se voi prendete gli atti del famoso convegno nell'università della liberazione del 73, vedete che sono praticamente una summa, un'analisi di tutto il mondo, perché noi facciamo degli sforzi infiniti per cercare di capire e di dimostrare. Seconda parola, il giudizio. Come nasce la cultura, come nasce la valutazione delle cose? Quindi ci sei per il valore che hai, non per il valore che ti danno. Secondo, impara a giudicare, impara a valutare le cose. E dice due affermazioni, ne ho già parlato all'intervento iniziale del meeting per cui non mi dilungo, due affermazioni libero ci fanno capire. Il giudizio di valore, cioè riconoscere il valore di ciò che c'è, l'importanza, il valore, che cos'è il valore? Una cosa importante, quello che è significativo per la vita. Il giudizio di valore è la questione prima della vita. In una scuola di comunità, nella scuola di comunità, nel senso religioso, mi pare, dice la libertà comincia quando si diventa capaci di dare dei giudizi di valore. Cioè, quando non si è più sotto, quando non si è più schiacciati dalla realtà, ma si è protagonisti. Quando si è protagonisti? Quando si giudica. Poi si dice questo va bene, questo va male, questo è giusto, questo è sbagliato, questo è per me, questo è per te e così via. Il giudizio di valore è la prima questione della vita. Secondo, la parola affezione è la più grande e comprensiva di tutta la nostra espressività. quindi il giudizio di valore non è un'operazione intellettualistica, ma è un attaccamento, è un affetto alle cose, è riconoscere il valore delle cose per legarsi ad esse. Tutti quelli di noi che hanno avuto esperienza del rapporto con Don Giussani riconoscono che la prima cosa che lui faceva è che si legava a te. La prima. Leggo un altro brano che rende benissimo l'idea. Che un ragazzo guardi la sua ragazza e gli venga in mente, neanche un cappello del tuo capo sarà perso, è il meeting dei capelli. Questa affermazione è come un vulcano di tenerezza, di dolcezza, di sicurezza. Perché un ragazzo dica a una ragazza una cosa così, lei dovrebbe sciogliersi. È una gratitudine sconfinata che uno prova. Ma se è un bifolco e non è capace di volere bene, o se è un astratto, sentite perché astratto, che parla di Gesù Cristo significato della vita, la religione come occhio dei popoli, no? Senza metterlo in rapporto col suo amore alla ragazza. A cosa serve? Che cos'è? Mi ricordo quando intervenne un ragazzo e gli disse io voglio bene la mia ragazza per Cristo. E lui rispose a lei cosa gliene frega? L'affezione, comunque ne abbiamo parlato lunedì. Terza parola, quella più sommovimentante di tutto, che Bersani ha pure colto bene, l'autorità. Perché la terza cosa che ha messo? Quindi la presenza, non la reazione, il giudizio e l'autorità. Dice io sono capo della comunità non perché mi vengono le idee migliori, ma perché sovalorizzare di più le idee migliori che vengono ai migliori. Non si tratta di se... Quindi il capo non è quello che fa tutto, che dirige tutto, che pensa tutto, che fa ubbidire tutti, ma è quello che sa riconoscere chi vale, quello che c'è. Non si tratta di seguire una persona, ma una compagnia, cioè un movimento di vita. Se c'è un'autorità, questa deve favorire un movimento di vita, non chiudere. C'è un pezzo che dice ragazzi non fate i preti, non fate i preti. Con tutto rispetto per i preti. Perché lo diceva dei laici, perché ci sono... Perché i laici quando si mettono a fare i preti sono peggio dei preti. È un'esperienza di vita, è un avvenimento di vita che si segue. Dice poi sinteticissimamente, si segue coloro che seguono. Io seguo te perché tu vai addietro a qualcosa che è più grande di te e di me, che giudica di me, ma giudica anche di te, altrimenti mi plagi. Questo ha completamente cambiato la percezione, appunto, del... che ha messo in moto quello che lui ha chiamato, e che comunque è sempre necessario, un movimento nel movimento. Cioè ha messo veramente in moto un cambiamento, dice. Noi andiamo avanti non certo per un discorso, per profondo che sia. Non lo dice lui, lo dico io. Noi andiamo avanti non certo per un discorso, ma per un'esperienza di umanità. Perché l'autorevolezza è in questo. Senza autorità non c'è niente. Autorità vuol dire far crescere. Abbiamo bisogno qualcuno che ci faccia crescere, altrimenti dobbiamo riscoprire sempre tutto da capo, diventa un disastro. Il fattore originante del nostro movimento è stato proprio l'impatto con una realtà umana diversa. L'umanità di Don Giussani, quelli che lui indicava e quelli con i quali lui stesso si immedesimava. Perché non so se chi l'ha sentito, senz'altro se la ricorda, una delle frasi che diceva, io ripeto solo quello che ho imparato. In questo senso è stato appunto ribaltato completamente il concetto di autorità. È stato ribaltato, è stato precisato. Non che sia stato abolito, perché l'autorevolezza è importante, ma è stato segnalato in che cosa consiste, soprattutto a noi, che eravamo i responsabili della necessità. Perché qualcuno si deve chiedere perché tanti ragazzi vengono qui a fare i volontari del meeting. Perché? Ma perché ci sono degli adulti che gliel'hanno insegnato, altrimenti non verrebbero. E chiude. Citando due frasi che diceva lui allora, che però sono attualissime oggi. Oggi, e attualissime anche per questo meeting. Oggi siamo culturalmente, socialmente, politicamente più scaltri di un tempo. Lo diceva nel 76, quindi figurarsi adesso. Tanto da essere considerati una delle forze politiche in Italia, leggetti i giornali. Ma la nostra forza non è un progetto, bensì la coscienza del mistero che siamo. E se gli altri non riescono a capire come mai siamo così, pur non essendo strumentati e potenti come loro, infatti pensano sempre che Comunione e Liberazione sia una specie di piovra, chissà che mezzi c'è, no? Ci abbiamo l'olio di gomiti, punto e basta. Comunque dicevo, pur non essendo strumentati e potenti come loro, è perché non capiscono, e così ci lasciamo con un compito, quello che anche noi tentiamo a capire, noi, non solo gli altri. Il contenuto è la forza di una presenza. Velocemente, ringraziando ovviamente Giancarlo, volevo darvi qualche flash sul comunicato finale di quest'anno e ci tengo a farlo perché credo che mai come quest'anno il comunicato finale rifletta fino in fondo l'esperienza che è accaduta in questo meeting, un'esperienza che ha reso testimonianza del titolo, il comunicato titola, che ha reso ragione e testimonianza del titolo del meeting. Il comunicato finale titola Scarceriamo la ragione e fa riferimento ad un incontro che è successo qui al meeting, che c'è stato qui al meeting, in cui hanno parlato il professor Vail Farouk dell'Università del Cairo e Saeed Shoaib, giornalista del Cairo, che si sono soffermati sul valore di due termini, il termine ragione e il termine realtà. Vail ha detto che la ragione e il realismo sono due concetti centrali nel libro di Don Giussani, Il senso religioso, che loro hanno contribuito a tradurre in arabo e che di questi due concetti Don Giussani presenta due definizioni assolutamente nuove. Dopodiché si sono addentrati a confrontare il modo con cui Don Giussani tratta queste due parole rispetto alla cultura araba, spiegando che la radice araba della parola realismo è cadere dal cielo, per cui la realtà è qualcosa che casca giù, per cui gli eventi sono qualcosa che casca di fronte all'uomo e l'uomo di fronte ad essi non può altro che rassegnarsi in una totale assenza di libertà. Infatti nella coscienza araba non c'è l'idea di libertà, così come non c'è l'idea di un rapporto attivo dell'uomo con la realtà. In quanto alla ragionevolezza, Vail ha detto che nella lingua araba il significato della parola ragione è incarcerare, ingabbiare, chiudere dentro e ha poi concluso che nel libro di Don Giussani si aprono dei nuovi orizzonti su queste due parole e sono proprio questi orizzonti che facendo riferimento all'esperienza elementare dell'uomo possano rappresentare un terreno comune con cui dialogare. Due professori islamici egiziani amici sul concetto di realtà e sul concetto di ragione. Non so se ci rendiamo conto di che cosa è successo in questo meeting. Il problema è che la ragione non è incarcerata solo nella coscienza araba, la ragione è incarcerata anche in Occidente, ridotta a misura di tutte le cose e ridotta a misura di tutte le cose inevitabilmente degenerante nel relativismo e nel nichilismo. Il meeting di quest'anno, inversamente, ha mostrato che la ragione è proprio una finestra aperta sulla realtà e pertanto ha dato il suo contributo a scarcerare la ragione, cioè toglierla dalla gabbia lei e togliere lei da un uso ingabbiante che si tende a farne. Gli incontri sulla scienza, gli incontri di tipo culturale, gli incontri sulla letteratura, sull'arte, sull'economia, sulla politica, gli spettacoli, le mostre sono state esattamente la testimonianza di una apertura e di una libertà così. Pertanto il meeting ha incominciato a scardinare una posizione che rinunciando a un uso adeguato della ragione diventa fatalismo, fideismo e inevitabilmente guerra. È così che il meeting è stato un luogo di incontro, di amicizia, di dialogo, credo che più dell'incontro di oggi sia difficile dare testimonianza e quindi un luogo di pace. Il meeting del prossimo anno 2007 si svolgerà a Rimini dal 19 al 25 agosto e andrà avanti. Apriamo la finestra. Il titolo del prossimo meeting sarà La verità e il destino per il quale siamo stati fatti. Grazie a tutti di quello che avete fatto e arrivederci al prossimo anno.